E' una situazione, tutto sommato, l'abbiamo più volte sottolineato, che attenzioniamo ma che non ci preoccupa dal punto di vista sanitario. Abbiamo 323 soggetti positivi però in ospedale abbiamo 23 persone ricoverate e di queste solo uno è in terapia intensiva. Sono quindi numeri che ci fanno attenzionare la situazione ma a questo momento, allo stato attuale, non ci preoccupano. La fotografia precisa della diffusione del Covid-19 nel veneziano rappresenta un punto di partenza imprescindibile per affrontare al meglio la sfida delle riaperture delle scuole, attività che l'Ulss3 Serenissima ha iniziato da settimane. Abbiamo fatto più di 8000 test sireologici rapidi agli insegnanti, 144 sono stati test positivi che però non hanno trovato conferma al tampone, quindi praticamente nessun insegnante di quelli che abbiamo testato aveva un tampone positivo. Quindi sono azioni che abbiamo iniziato 15 giorni fa e naturalmente che continueremo a farlo nel nostro percorso all'interno di queste linee guida ma che vuole essere un percorso a fianco del mondo scolastico ma delle famiglie in particolare. Un team di esperti composto da medici, assistenti sanitari e tecnici della prevenzione è a fianco delle scuole con anche referenti specifici per il distretto veneziano di Mirano, Dolo e di Chioggia. Tutte le scuole hanno un referente Covid. Per rispondere ad ogni domanda e chiarire ogni dubbio delle famiglie, l'Ulss ha avviato una comunicazione a più livelli che non si limita al solo numero verde. Il sito istituzionale dell'azienda sanitaria dove sono presenti appunto tutte le indicazioni su questo tema, abbiamo pensato a una messaggistica tipo Whatsapp quindi con un numero di cellulare dedicato e a delle mail dedicate appunto a questo tema. Quindi cerchiamo di venire incontro a quelle che sono le domande più frequenti, a quelle che sono le esigenze delle persone e nelle 24 ore in sostanza usando questa metodologia, questi metodi che sono ormai a portata di tutti. Un filo diretto è anche col personale impegnato a vario titolo negli istituti. Noi abbiamo iniziato la settimana scorsa, vogliamo continuare settimanalmente a tenere un contatto diretto tramite videoconferenze con il mondo della scuola per monitorare l'andamento della situazione e per rispondere a quelle che possono essere le domande, le esigenze che il mondo della scuola ci pone. Però sempre sottolineando il fatto che l'azienda sanitaria ha un compito squisitamente sanitario, non di logistica, non organizzativo e che opera all'interno di precise linee guida nazionali.